Come si costruiscono le percezioni, i ricordi, le scelte e di conseguenza i comportamenti, ossia quali sono le variabili che concorrono a farci valutare e di conseguenza scegliere come vivere la nostra vita. È un argomento complesso che per necessità di sintesi mi trovo a dover riassumere e per farlo ho scelto due concetti molto potenti che sono stati sviluppati da uno psicologo che si chiama Kahneman, legato soprattutto alla psicologia comportamentale in ambito economico, che però sono particolarmente utili per riuscire a comprendere questi concetti. Kahneman sostiene che ci siano due tipi di sé, due grandi tipi di sé. Un sé esperienziale, cioè basato sul qui e ora e sulla percezione del momento, quindi limitato al momento che sto vivendo, ed un sé invece narrativo, ossia che è come se fosse costituito da tanti piccoli sé esperienziali e colloca l'esperienza che vivo all'interno di una narrazione, o meglio ancora, all'interno quindi di una storia, la mia storia, la storia che poi andrò a raccontarmi. La connessione tra questi due sé, il sé esperienziale ed il sé narrativo, è ciò che concorre alla costruzione delle percezioni, alla costruzione dei ricordi, delle scelte e di conseguenza dei comportamenti. Ci sono però due aspetti molto importanti che devono essere considerati nella relazione tra il sé esperienziale, ciò che sto vivendo nel momento specifico, e il sé narrativo, cioè la collocazione di questa esperienza all'interno della mia storia. Ovvero che il sé narrativo, prima di tutto, risulta essere più potente, solitamente, proprio perché noi tendiamo a condensare le diverse esperienze all'interno di un significato, all'interno di una storia, rispetto al sé esperienziale. Il problema è che questa potenza non sempre è oggettiva, anzi è sempre ed esclusivamente soggettiva, vuol dire che la storia che va a costruirsi tramite appunto il sé narrativo, risulta essere soggetta a delle alterazioni percettive e di valutazione legate a specifiche variabili. Queste specifiche variabili, su tutte, sono costituite dal principio che ha a che fare con la legge del picco fine, ovvero che il sé narrativo tenderà ad essere influenzato nella sua valutazione complessiva, dalle esperienze che costituiscono il picco, cioè il picco massimo dell'esperienza, quindi emotiva, legata alla vicenda, a ciò che sto vivendo, alla situazione specifica, in relazione, solitamente con una proporzione media, rispetto invece all'esperienza che ho vissuto nel momento della fine di appunto questo ciclo, questa narrazione. Provo a fare un esempio in modo tale da essere molto più chiaro. Kahneman ha fatto questo esperimento legato ad un esame particolarmente spiacevole come la colonoscopia, esame che è invasivo, esame che è doloroso, esame che non è vissuto ovviamente bene appunto dalle persone, esame su cui diversi medici si sono interrogati, soprattutto sul come renderlo meno invasivo, meno disturbante, insomma non piacevole, ma più tollerabile dalle persone. Ci sono stati due campioni, il primo campione si è sottoposto ad un esame molto rapido, ma che al tempo stesso è stato valutato dai partecipanti anche come molto doloroso, con picchi di dolore 9, che però appunto duravano pochi istanti, pochi minuti, mentre un campione 2 si è sottoposto ad un esame molto più lungo, più del doppio rispetto al campione precedente, e lo stesso esame aveva dei picchi, quindi dei picchi massimi di dolore che arrivavano appunto e sono stati valutati come 9, e dei picchi invece molto più bassi, dove la valutazione, soprattutto nel termine della fine dell'esperimento, i picchi di dolore erano molto molto più bassi, quindi facciamo un esempio a livello 4, a livello 3. Bene, indovina un po'. Le persone che si sono sottoposte al esame breve, hanno valutato l'esperienza come particolarmente negativa, e quindi i picchi di dolore massimo che sono stati appunto percepiti e poi raccontati sono stati intorno al 9. Mentre per le persone che si sono sottoposte invece ad un esame più lungo, quindi del campione B, la valutazione complessiva è stata molto migliore rispetto a quelle che si sono sottoposte all'esame breve. Nonostante i picchi del dolore massimo siano stati i medesimi, però la persona che si è narrata l'esperienza non è stata più portata a valutare il dolore massimo come 9, bensì facendo una media tra il dolore massimo, il 9 appunto, ed il dolore finale, cioè ciò che era più legato appunto in termini di dolore al momento finale dell'esperimento, quindi il 3 e il 4. Quindi hanno valutato il dolore complessivo dell'esperienza intorno al 6-7. Ora, capiamo che qui c'è un bias cognitivo che è abbastanza esplicito, ossia da un lato è vero che c'è stato un dolore intenso che è stato però breve, contenuto nel tempo, dall'altro c'è stato un dolore che è stato ugualmente intenso, semplicemente l'esame è durato di più. Eppure la mia percezione mi porta a credere, appunto a percepire, che il secondo esame sia stato meno faticoso, meno invasivo, meno doloroso, quanto invece non lo sia stato il primo, cioè quello a cui si è sottoposto il campione A. Chiaro che da un punto di vista puramente cognitivo capiamo che questo non è vero, eppure da un punto di vista puramente soggettivo, percettivo, invece diventa estremamente vero. Questo per dire cosa? Per dire che il sé di tipo narrativo è influenzato da diverse variabili e da diversi principi. Il più grande appunto è l'effetto picco fine che ho appena spiegato. Perché sto raccontando però tutto questo? Perché sto raccontando del sé esperienziale? Perché sto raccontando del sé narrativo? Perché noi, come ho detto, costruiamo le nostre percezioni, i nostri ricordi, le nostre scelte, i nostri comportamenti sulla base appunto della costruzione del sé narrativo. Il problema però è che questo sé narrativo è soggetto a dei bias, cioè a degli errori che sono prettamente cognitivi e soggettivi, cioè legati alla ricostruzione che noi diamo degli eventi. E questo ha delle incidenze enormi sulla nostra vita. Perché se usciamo dal campo puramente sperimentale come quello in cui è appunto è stato fatto l'esperimento che ti ho appena raccontato, possiamo ritrovare lo stesso principio all'interno delle relazioni sentimentali, dove magari ci è portati nei primi momenti a essere concentrati solamente sul sé esperienziale, quindi con grandi picchi di amore, innamoramento, sentimento, passione, anche travolgente. O e, meglio, più andiamo avanti, più iniziamo a raccontarci la storia, quindi iniziamo a vivere tramite gli occhi, le lenti del sé narrativo. E quindi questo non sempre però gioca a nostro favore, nel senso che le persone tendono magari a stare all'interno di relazioni sentimentali solamente con l'idea che questa cosa possa migliorare, semplicemente avendo in mente quale può essere l'esito finale appunto di una relazione, ma si condannano a vivere il presente che poi molto spesso si trasforma in per sempre patetico, difficile, doloroso, umiliante, fatto di un dolore che non potrebbe mai essere giustificabile tramite un sé esperienziale, ma lo è astento, quindi anche con grande fatica, solo attraverso un sé narrativo, che però purtroppo risulta essere molto spesso troppo, troppo soggetto a variabili soggettive e troppo, troppo soggetto a delle alterazioni percettive, poiché si basa proprio su dei principi che hanno poco di cognitivo, ma appunto sono caratterizzati da alcuni bias. L'effetto picco fine è solo uno di questi. Questo video aveva lo scopo di introdurre il discorso, nel senso che volevo iniziare a ragionare con te appunto su quali sono le dinamiche che concorrono alla costruzione appunto di percezioni, ricordi, scelte e comportamenti. Nei prossimi video approfondirò delle situazioni specifiche in cui cercherò di evidenziare bene queste caratteristiche, in cui cercherò di evidenziare bene i pesi che assumono il sé esperienziale ed il sé narrativo e come questi concorrono con esempi concreti alla costruzione non solo della nostra realtà, ma soprattutto del nostro benessere o della nostra patologia.